Pasqua e Pasquetta, i bitontini hanno dato una bella risposta. Ripeteremo l'esperimento, quindi già ve lo anticipo, per il 25, il 26 aprile e il 1 maggio, lasciando soltanto e esclusivamente il servizio a domicilio. Il bilancio del weekend da bollino nero di Pasqua e Pasquetta è trascorso in maniera serena con la gran parte dei bitontini che hanno recepito il messaggio e sono usciti solo in caso di comprovata necessità. Esperimento che sarà replicato anche la prossima settimana, il 1 maggio. Le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Polizia Locale, con l'ausilio del Nucleo Protezione Civile, hanno controllato a tappeto tutto il territorio. 300 le persone controllate, 30 le persone sanzionate, tra questi anche 11 ragazzi che nella tarda domenica di Pasqua si sono riuniti in un locale in Via Somma. Diverse anche le attività commerciali controllate e una in Via Modugno è stata sanzionata, oltre ad aver subito la chiusura per 5 giorni perché aveva violato l'ordinanza sindacale. I numeri del coronavirus, infine, nella nostra regione sembrano dare una speranza, ma non si può ancora cantare vittoria. La nostra città al momento ha registrato 4 decessi. 5 persone hanno ricevuto il risultato positivo al tampone, ma sono rimaste a casa. Una persona è ricoverata e stiamo seguendo la situazione da vicino perché è una persona anziana.